Linea completamente integrata. Le quattro zone che la compongono, introduzione, stiro, scarto automatico e piega, dialogano attraverso una rete Ethernet. I terminali touch panel di interfaccia macchina-operatore sono tra loro interconnessi per uno scambio in tempo reale dei parametri di produzione. Tramite il touch panel a colori, l'operatore è in grado di controllare e gestire tutti i principali parametri del mangano. Avviamento, spegnimento, temperatura di ogni singola conca e degli scarichi. Il mangano è dotato di comandi doppi per poter funzionare anche in caso di guasto della parte elettronica del touch panel. Il pannellino ausiliario consente di monitorare la pressione del vapore e la taratura indipendente della pressione di stiratura dei vari rulli. Quando l'impianto è in pressione, si attiva la procedura automatica di stiratura. Nell'impianto ci sono cinque linee di stiro con cinque piega tovaglioli Mabis, quattro standard ed una autocentrante. La selezione del cliente e dell'articolo può avvenire tramite i touch panel a colori, posti sulla canalina dell'introduttore manuale Jolly, oppure mediante l'acquisizione automatica di un codice a barre per mezzo di un lettore barcode. All'uscita del mangano, prima della piegatura, gli articoli transitano sullo scarto automatico, che mediante sezioni mobili di nastri scorrevoli scarta articoli di biancheria rotti o sporchi e li invia ad un contenitore laterale. Il sincronismo è automatico, legato alla velocità di stiratura. Le piega tovaglioli Mabis provvedono alla piegatura e all'accatastamento degli articoli. Mabis autocentrante, mediante una serie di lettori ottici, è in grado di garantire una corretta e costante piegatura anche se l'articolo viene introdotto in posizioni diverse. Una volta accatastati, secondo le quantità desiderate, i capi vengono scaricati sul sistema automatico di raccolta Teren.